Ora tutti, proprio tutti, a parlare della necessità di mascherine, mascherine e ancora mascherine. La Toscana ne ha distribuite 85 milioni, più di tutte le altre regioni. Anche per questo abbiamo speso più di altre e forse anche per questo abbiamo avuto meno morti. Noi, finché sarò presidente, continueremo con questa politica di prevenzione. Il governatore Enrico Rossi, con un post su Facebook, ha ricordato l'impegno della regione nella lotta al coronavirus. Parole giunte nei giorni in cui il Covid-19 pare essersi risvegliato. Nove positivi in due famiglie in pruneta, altri quattro in un nucleo familiare a Pian Disco, in provincia di Arezzo. Sono queste le notizie arrivate da due diverse asle toscane che hanno fatto suonare un campanello d'allarme sulla resistenza del contagio in Toscana. A colpire è anche la giovane età dei contagiati. Nei due focolai sono ben sei i minori positivi. Sulla scea del governatore Rossi, anche i sindaci chiedono massima attenzione. Spero che la cosa si risolva in pochi giorni e che si torni in un clima di maggior tranquillità e serenità. Però, ripeto, attenzione, 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 perché dai nostri comportamenti dipendenti. Le autorità sanitarie toscane seguono con apprensione l'evoluzione del contagio. Gli ultimi focolai hanno fatto risalire l'indice R con zero, ovvero il rapporto tra positivi e nuovi contagi. La Toscana è ancora inferiore a uno, ma è al limite 0,99.